La lingua etrusca è sostanzialmente priva di legami familiari con altri ceppi linguistici, come ad esempio quello indo-europeo da cui discendono il latino e il greco e che è alla base della maggior parte delle lingue europee attuali, fra cui l'italiano. L'etrusco è pertanto una lingua di difficile comprensione. Diversamente, la scrittura etrusca si basa su un alfabeto leggibile senza particolari difficoltà, derivando da quello greco con piccole modifiche ed essendo affine a quello latino da noi usato. La diffusione dell'alfabeto nei territori abitati dagli etruschi, a nord fino a Mantova in Lombardia e Adria in Veneto, a sud fino a Ponte Cagnano vicino a Salerno e il particolarismo che ha sempre caratterizzato le comunità etrusche, hanno comportato, da luogo a luogo, molteplici varietà nella pronuncia della lingua e nella scrittura delle lettere. Ad Arezzo, le più rilevanti caratteristiche scrittorie sono quelle che accomunano i territori etruschi del nord della Toscana e della pianura padana. Stili e mode della scrittura ebbero inoltre continue modifiche nel tempo, come sarà possibile notare anche dai documenti del percorso.